partiti in vantaggio si porta Donna Cayetana presto attaccata e superata da Dan Baghi che di slancio assume il comando e conquista anche 3-4 lunghezze di vantaggio nei confronti della stessa Donna Cayetana poi Gilontic, Raffa Gold quindi Kelins, Enjoy the Silence e gli altri leggermente più arretrati Cavalli lungo l'arco della curva con buona andatura imposta da Dan Baghi che precede Donna Cayetana quindi Gilontic ancora Raffa Gold, Kelins, Enjoy the Silence più indietro Sebi Fly e Mujaydo Caffeina siamo in retta di arrivo con in vantaggio Dan Baghi nei confronti di Gilontic quindi Donna Cayetana si avvicina anche Twist and Shot a centro pista in anticipo su Mujaydo Caffeina siamo a 450 dal palo Dan Baghi sotto l'attacco di Gilontic a centro pista Twist and Show quindi Kelins più all'esterno Donna Cayetana e Sebi Fly c'è lotta tra Gilontic e Twist and Shot nei confronti di Dan Baghi e Kelins siamo a 200 dal palo che con Gilontic attaccato da Twist and Shot che sta passando ma a largo si propone Kelins nel finale c'è lotta con Twist and Show che deve difendersi da Kelins sul palo Twist and Show si impone nei confronti di Kelins Gilontic e Dan Baghi andiamo a rivedere le immagini con Twist and Shot Gian Pasquale Fois in sella numero 4 dello schieramento che è passato in vantaggio si è poi difeso strenuamente dal tentativo finale di Kelins che termina al posto d'onore davanti al leader Gilontic quindi 4-2-6 il probabile ufficioso arrivo della sesta ed ultima corsa di Agnano e tutto per oggi a risentirsi con il prossimo convegno di galoppo il 28 dicembre Grazie a tutti